Musica Bentornati a TT News, direttamente da Pari... Parish? Dove sta l'accento? Parigi. La prima T-News della settimana ricorda le parole di Nelson Mandela. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di unire le persone e di creare speranze e abbattere le barriere classiali. A dimostrarlo è proprio la scherma che in questi giorni ha riunito nella belle Ville Lumière atleti provenienti da tutto il mondo che si sono ritrovati per allenarsi tutti insieme prima di... 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 di ultima gara di qualifica olimpica. Un secondo, grazie. Sì, per favore mettetemi in playback. Mia fonetica non è ancora rappresentabile. Grazie. A voi l'inviata. Grazie. 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 E' vero che nel sport non ci sono più le frontiere, quindi siamo liberi ora di scegliere, di scegliere, di scegliere. C'è il buto anche di fare SCRIM sans frontiere. C'è il World Cup. C'è il World Cup. C'è la qualificazione? Sì. Sì. E la squadra. E ti piace di scegliere qui? Sì. È una buona esperienza per te? È bello, perché non abbiamo molti di scegliere solo, quindi questo è il Green Cross. È un buon exchange, un exchange cultural. Sì, perfetto. C'è l'ora di scegliere, è un'esperienza di vita. Sì, a preta fa un po' di lingua, tutti parlano un po' di lingua. Francesco, espanhol, inglese. Italiano. Chinesco. Chinesco. Non. Ok, molto grazie. Se volete dire qualcosa di questo Kiki News, non lo so, qualcosa di brasilello. Ah, ho sentito. Ah, ho sentito. Ai se io ti pego, ai ai se io ti pego, deline. Sì. Sì, va. nossa, nossa, assim você me mata Ai se io ti pego, ai ai se io ti pego lay Delícia, delícia, asì, você me mata Ai se io ti pego, ai ai se io ti pego hay Sssh, parlate in piccolo. Tutti gli atleti dopo allenamento e sforzo e fatica chiedono giustizia divina. Ecco voi Seconda T News. A tra poco. Tu, che sai di questa gente la virtù, ripeti ancora, la pace sia con te che un lavoratore. E il nostro T T News vuole ricordare, atleti e riniti in preghiera, che esiste soltanto una persona nella quale dovete credere. In voi stessi. E con questa massima io vi dico alla prossima. Grazie. Grazie.